Buongiorno a tutte e a tutti. Torino ha un buon sistema di biblioteche pubbliche, mi dicono, e di nuovo la vigilia di un passo ulteriore da fare sul fronte dei servizi offerti alla cittadinanza. E come sempre in questa occasione è importante confrontarsi con le esperienze che ci circondano e soprattutto con esperienze di chi ha fatto certi passi un po' prima. C'è stata questa opportunità per la città in generale di fermarsi, tra virgolette, a pensare come progettare il proprio futuro e in particolare a cosa anche dal punto di vista dell'architettura, della progettazione anche materiale, possa contribuire a costruire il futuro della città. Per questo, questa mattina, sapendo che abbiamo anche un progetto importante con cui misurarci, quello della nuova sede della Biblioteca Civica Centrale, abbiamo il piacere di avere qui a questo tavolo alcune persone che possono senz'altro aiutarci in questo cammino. Soprattutto persone che ci possano aiutare a cogliere una funzione che è una funzione per lo sviluppo complessivo della città come funzione della Biblioteca. In una realtà quella italiana in cui questa percezione non è ancora abbastanza forte, anche perché è troppo recente l'investimento che in termini complessivi nel Paese si è fatto in infrastrutture che consentano effettivamente il servizio di Biblioteca Pubblica nelle sue diverse articolazioni e quindi non solo come luogo di distribuzione di libri, ma come luogo reale di anche produzione di cultura, di incontro, di crescita personale, ma di ritrovo anche con altri nei propri cammini di formazione e di crescita. Il nostro primo ospite è Rolf Happel, responsabile dei servizi di cittadinanza delle Biblioteche della città di Horus, Danimarca, la seconda città della Danimarca. Ha una lunga esperienza di lavoro proprio nel settore dell'amministrazione pubblica delle città, a livello comunale diremmo noi, e come formazione sua ha una formazione, ha un Master Degree in Digitation and Public Administration. Quindi noi che sentiamo parlare di agenda digitale, di Italia digitale, eccetera, di biblioteca digitale, abbiamo oggi la possibilità di sentire un collega che con questa base di formazione concretamente nel campo lavoro da tempo e ha potuto mettere a disposizione della collettività davvero in tutte le parti del mondo, attraverso conferenze e partecipazione a comitati scientifici, quello che sappiamo essere uno dei terreni più avanzati di offerta di servizi bibliotecari nel mondo. Perché così si caratterizzano i servizi bibliotecari in Danimarca. Prima di dare la parola a Rolf Appel però, a questo punto, sono in grado di dare la parola all'assessora Francesca Leon che teneva molto a introdurre i lavori di questa giornata, ma che la sua giornata l'è incominciata un po' prima dalla sindaca e poi in giunta e quindi è riuscita a liberarsi solo adesso. E ringrazio anche quindi per la pazienza con cui tutti voi avete atteso. Non voglio far perdere tempo a questo incontro che per noi è molto molto importante. Pensare la biblioteca del futuro è per noi un momento importante anche in vista del progetto preliminare per la futura biblioteca civica centrale nella nostra città. E allora imparare dalle esperienze degli altri, imparare come in Europa e nel mondo ci si sta muovendo nella progettazione delle nuove biblioteche, delle biblioteche del futuro, è per noi estremamente importante e interessante perché ci può dare linee guida per il percorso che stiamo cominciando oggi e ringrazio il gruppo di progettazione che sarà della biblioteca civica centrale a Torino Esposizione di essere qui, disposto ad ascoltare, a sentire quali sono le sensibilità della nostra città su questi argomenti e quindi io auguro buon lavoro, io sarò presente tutta la mattina e ascolterò con attenzione anche per ispirare la nostra azione futura. Ringrazio coloro che sono qui con noi a presentare la loro esperienza che per noi è estremamente interessante e importante. Quindi buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutti noi e ringrazio tutti coloro che parteciperanno anche nel pomeriggio ai gruppi di lavoro. Cominciamo. Allora stavo appunto dando la parola a Rolf Appel, invito tutti a tenere presente come sottofondo che appunto si parla di un'esperienza danese e avremo occasione in particolare di sentire da lui molto su quello che di nuovo nelle biblioteche oggi si può fare, un po' di colleghi riconosceranno in alcune delle cose presentate cose che nel piccolo in Torino si sta cercando anche di fare ma alle spalle di questo qualcosa di nuovo c'è tutto il tradizionale. Prima sintetizzavo così, i libri in questo genere di biblioteca non sono tapezzeria perché negli anni 70 si è corso questo rischio in Italia. Gianni Stefanini che non vedo più lo sa bene, parlerà dopo, in Lombardia grandi investimenti ma perdendo un po' di vista cosa la biblioteca potesse davvero offrire la cittadinanza, correndo dietro all'allora si parlava animazione culturale. Allora teniamo presente che il collega invece viene ad un'esperienza in cui del nuovo si parla facendo appieno tutto quello che una biblioteca può fare. Grazie, questa immagine viene dalla biblioteca di Horus. Le persone che vedete somigliano a voi ma l'evento è un po' diverso, però è un'attività che fa capo alla nostra biblioteca. Oggi sono qui per presentarvi per sommi capi il progetto della nuova biblioteca centrale di Horus. Parlerò anche di coinvolgimento dell'utente e di partnership all'interno della biblioteca, parlerò poi dell'importanza del gioco e dell'alfabetizzazione primaria, poi parlerò della cosiddetta Maker Culture e finirò con il ruolo delle biblioteche o i ruoli delle biblioteche all'interno delle smart city. Partiamo. Questa è la nostra biblioteca. È un grande edificio di 18.500 metri quadri dedicati alla biblioteca e all'attività e ai servizi ai cittadini e con questo intendo dire tutti i servizi pubblici che possono essere concessione passaporti, assicurazioni sanitarie, eccetera. Tra l'altro oggi come oggi in Danimarca la legge impone di fare tante cose via internet ma tanti non sono in grado di farle e quindi è la biblioteca ad assolvere questo compito di assistenza. Si tratta di un progetto architettonico imponente, non è soltanto una biblioteca ma c'è anche un parcheggio. Abbiamo un parcheggio automatizzato per mille veicoli, quindi in pratica si mette l'auto all'interno di un ascensore che viene poi azionato automaticamente e la dispone in questo parcheggio sotterraneo. La biblioteca è molto vicina alla zona portuale, in realtà è proprio sul fronte del porto, è costruita su un'area sollevata che è la stessa che protegge la città dall'inondazione per due metri e mezzo. Sappiamo che la calotta artica si sta sciogliendo e che le acque si innalzeranno, quindi abbiamo pensato in questo modo di proteggere la città e questo è, questo del biblioteca che sorge proprio in quest'area, è il più grande progetto edilizio pubblico di Oros. A livello di costi in totale sono 280 milioni di euro, molti, ma naturalmente questo va anche a tener conto di quelle che sono state le realizzazioni di metropolitana leggera per collegarlo, il parcheggio, la climatizzazione eccetera. I finanziamenti sono arrivati per lo più dalla città ma un terzo è arrivato da fondazioni danesi, abbiamo tra l'altro venduto la vecchia biblioteca, abbiamo potuto portare a casa una discreta somma e quindi questo è quanto per quel che riguarda i finanziamenti. La biblioteca ha tre volte le dimensioni dell'area pubblica, c'è una zona particolare riservata ai bambini e alle loro famiglie, molta più tecnologia e ci sono molte più attività all'interno. Tanto per dare un'idea di quanto tempo c'è voluto per la sua realizzazione. Io sono stato coinvolto nel 1998 quando è stato costituito un comitato deputato a decidere dove sarebbe sorta la nuova biblioteca. Poi nel 2003 il consiglio comunale ha votato con un accordo sul piano di investimenti. Poi nel 2007 abbiamo lanciato il bando che è stato vinto nel 2009 dallo studio SHL, poi nel 2011 sono partiti i lavori di scavo e nel 2015 abbiamo aperto. Quindi 17 anni della mia vita sono stati dedicati a questo progetto e in quel periodo ho perso anche tutti i capelli. Quando ci pensate, il 1998 è stato quando è uscito Google. Il 2004 è l'anno di Facebook, del lancio di Facebook, 2007. È stato l'anno dei premi smartphone nelle nostre tasche, per cui pensate a questo. Quindi realizzare una biblioteca con la sua pianificazione e con il lavoro di sviluppo della società digitale richiede molta flessibilità per non affidarsi alle modalità vecchie e note di fare le cose. Quindi abbiamo dovuto anche noi adattarci al cambiamento dei tempi. Questo è il sito. È stata costruita nel posto più visibile di Aros, praticamente il punto dove i vichinghi risalivano il fiume con il loro dracar. Quindi un luogo veramente molto importante storicamente e panoramicamente. Quindi questo è un segno della città che ha voluto costruire la sua biblioteca nel punto più in vista di tutta la città. Questo tra l'altro è il progetto per la metropolitana leggera. L'idea è questa, far arrivare gente nell'area portuale. Come tutte le città europee che hanno avuto porti con molte attività, anche Aros ha visto un grande calo dell'interesse di queste aree. Quindi anche Aros ha voluto ricreare una certa quantità di attività in questa zona. Questo tra l'altro è l'ido di Venezia. Più o meno è la stessa dimensione del nostro progetto. Tanto per darvi un'idea rispetto ad altri porti. E questa è l'idea del nostro edificio. Ci sono nove colonne di cemento armato e un tetto sopra. L'idea è quella che si attraversa la città e si ha sempre la stessa sensazione. Cioè che si entri in uno spazio, l'ennesimo spazio aperto della città pare a tutti gli altri ed è molto facile accedervi. Quando si entra in una biblioteca però non si ritiene di dover pagare nulla. Quindi deve esserci un accesso libero e gratuito. E l'idea è quella di avere una visibilità da 360 gradi al di fuori dell'edificio. Vedete che relativamente vicina alla nostra biblioteca è la più grande chiesa di tutta la Danimarca, la cattedrale di Aros. Vedete la zona della città con l'area portuale, piuttosto industriale come aspetto, non molto elegante. Ma anche il nostro edificio ha un'estetica piuttosto spigolosa se volete. Allora qui era prima di aprire, adesso vedete l'immagine dopo l'apertura. Ed era un edificio acceso, luminoso, illuminante, 24 ore al giorno, 7 ore, 7 giorni alla settimana. E questo perché nessuno ci aveva raccontato nel momento in cui ce l'hanno consegnata dove stavano gli interruttori. Tutto digitalizzato e tutto è tecnologizzato. Quindi in maniera da poter fare tutto tramite la tecnologia. Ci sono 2400 metri quadri sul tetto di pannelli fotovoltaici che ci danno l'illuminazione. Ma perché? Perché realizzare una biblioteca quando si sa che la digitalizzazione si sta espandendo in ogni direzione? Cercherò di rispondere a questa domanda. Innanzitutto qualunque biblioteca deve essere in grado di rispondere a questa domanda. A quali problemi della società la biblioteca risponde? Quindi rispetto a quali problemi della società rappresenta una risposta? È uno strumento che è qui per un motivo, un motivo politico. Naturalmente la natura della motivazione può cambiare nel tempo. Ma del resto le biblioteche si sono sempre adattate al cambiamento. Le biblioteche dell'era industriale erano luoghi di democrazia, di educazione e di cultura. E sono state un grande successo. Ho visto il caso di Torino, ma sicuramente in Scandinavia ma anche in America le biblioteche sono diventate un luogo di condivisione di conoscenze e di economia. Ma questo faceva riferimento a un tempo in cui la conoscenza era contenuta in artefatti chiamati libri. Ormai la conoscenza non è più limitata a quegli elementi, ai libri. E adesso abbiamo altri veicoli di conoscenza che potrebbero essere del tutto diversi come natura rispetto a quel che conosciamo. Quindi le biblioteche devono reinventarsi e pensare a nuove modalità di essere professionali creando nuove alleanze e nuovi prodotti. Se ci si pensa le cose sono cambiate, le informazioni sono accessibili. Ce l'ho in tasca, ho accesso a qualunque tipo di informazione con il mio telefono. Quindi pensiamo a quel che si può sperimentare solo nella biblioteca. E quindi gli spazi fisici devono diventare in quanto tali dei media. Quindi seduti in una sala, come voi oggi, avete un'esperienza dei media, avete uno schermo e mi sentite attraverso degli altoparlanti. Per cui questa sala in un certo senso diventa essa stessa medium. Le informazioni e i dati però non sono interessanti di per sé stessi. Sono interessanti quando vengono contestualizzati, quando hanno significato e significatività. E questo è quel che possono fare le biblioteche. Le biblioteche godono di alta credibilità e sono luoghi dove la gente si può incontrare. Sono luoghi in cui si può sperimentare. Si possono sperimentare format diversi. Ed è molto importante considerare i visitatori della biblioteca non come consumatori dei nostri servizi, ma come risorse. Risorse che portano all'interno della biblioteca le proprie conoscenze e che possono essi stessi diventare portatori di una parte del contenuto della biblioteca. Ora, per poter lavorare bisogna quindi coinvolgere gli utilizzatori. Io non sono solo responsabile della biblioteca, ma sono anche responsabile di una serie di servizi ai cittadini. Ho partecipato a tante riunioni in cui le amministrazioni incontravano gli utenti, le cittadinanze. E queste sono delle esperienze piuttosto mortificanti per tutti perché sono, non so, molto formali e anche molto noiose. A meno che le cose partano per la tangente e tutti gli animi si surriscaldino. Noi abbiamo cercato però di cambiare questo cercando proprio di adottare un approccio molto più collaborativo dove l'utente diventa un coproduttore e un cocreatore insieme di concerto con la città. Forse avrete già visto questa scala di coinvolgimento della cittadinanza. È un testo di Armstein, figurato, è comparso per la prima volta in un testo di Armstein nel 1969 dove si dice che i cittadini possono essere oggetto di manipolazione oppure di terapia in maniera che le critiche possano essere eliminate quando è comodo evitare tutto quello che sono le opposizioni violenti. Ma cinque anni fa noi ad Aros abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso lungo questa scala e abbiamo deciso di procedere con l'informazione. Abbiamo fatto una serie di domande ai nostri cittadini però siamo saliti anche noi nelle nostre riunioni lungo questa scala e siamo arrivati al momento in cui siamo giunti a delegare il potere e questo ha a che vedere con quello che è il futuro del settore pubblico in generale ed è un'esperienza che libera moltissima energia, molta creatività proprio attraverso la delega data ai cittadini stessi. Quindi l'obiettivo della biblioteca adesso è creare organizzazioni di incontro, brainstorming, focus group, abbiamo dei format di World Cafe e di attività di creazione, proprio di visioni nuove, phototyping, cose che abbiamo sviluppato anche nel tentativo di realizzare il progetto della nostra biblioteca. Abbiamo invitato gli cittadini stessi a fare un giro, a prendere immagini, a fotografare quello che funzionava e quello che funzionava meglio proprio per darci delle idee. Poi abbiamo un altro format, il Village Square, dove elaboriamo le idee di concerto con gli utenti e poi i lead users, studenti universitari che per cinque settimane alla settimana, in base a un contratto, partecipano al nostro lavoro. Abbiamo delle attività con esperti di social media, di letteratura, eccetera. E abbiamo creato un universo intorno a loro che abbiamo chiamato Mindspotters e abbiamo realizzato la Spot Caravan e che abbiamo fatto viaggiare nella città dando un'idea assolutamente diversa della nostra biblioteca. Abbiamo utilizzato questa rete di giovani con tutte le loro connessioni rispetto ai loro pari per veicolare il nostro messaggio. Altre attività. Qui abbiamo lo user-driven design, il design partecipativo come parte dei servizi della biblioteca e questi sono i bambini con cui abbiamo lavorato nell'estate sviluppando l'idea di quello che secondo loro la biblioteca avrebbe dovuto contenere. Hanno realizzato dei modellini di biblioteca e li abbiamo intervistati e abbiamo inserito i loro requisiti nel bando perché potessero essere utilizzati dagli architetti. Gli architetti pensavano che noi scherzassimo ma invece no, eravamo molto seri. Questi bambini adesso sono utenti. Questi bambini sono stati molto produttivi hanno tirato fuori tantissime idee su quello che avrebbe dovuto essere la biblioteca e molte di queste sono state realizzate. Quindi la vision di questo edificio è emersa in maniera molto partecipata e partecipativa molti stakeholder, cittadini, focus group e professionisti sono stati coinvolti in questo lavoro e abbiamo prodotto questa visione che l'ha portata a diventare uno spazio per lo sviluppo umano e l'interazione che promuove l'esperienza, l'apprendimento e molto altro attraverso una realizzazione flessibile e programmabile e un focus speciale su bambini e famiglie. Non c'è neppure una parola in questo testo su libri o su tecnologie. E perché? Perché libri e tecnologia sono soltanto strumenti strumenti per far entrare le persone in contatto con conoscenze e informazioni. Noi non sappiamo se esisteranno ancora libri tra 30 o 50 anni e non lo sapevamo neppure quando abbiamo iniziato a sviluppare questo lavoro non lo sappiamo neppure ora probabilmente sì probabilmente questo edificio durerà per 150 anni che cosa sarà però la tecnologia tra 50 anni, 15 anni forse nessuno può dircelo quindi quello che rimane è un'esigenza costante dell'uomo sono le esigenze umane che sono il denominatore comune alla base di questa realizzazione perché ci servirà pur sempre una buona acustica ci servirà sempre la comodità dei luoghi dove andiamo a sederci ci servirà luce ci servirà sicurezza un luogo bello dove stare questo è importantissimo è una delle missioni di questo edificio possiamo riempirlo di libri o di tecnologia questo edificio ma non possiamo determinare l'edificio in base a queste esigenze ecco perché abbiamo deciso di basarci non su libri e tecnologie ma sulle persone per farne una casa che rispondesse ai bisogni di queste persone per far affluire le risorse alla biblioteca abbiamo avuto bisogno di partnership abbiamo tratto molte conoscenze e ispirazione da queste partnership abbiamo ampliato la nostra rete di contatti e relazioni abbiamo dato più servizi e abbiamo anche trovato dei nuovi ambasciatori tra i nostri partner e questa non è un'idea nuova quella di base è un'idea che abbiamo rubato al Regno Unito quella che noi chiamiamo la mashup library una sorta di biblioteca è una vocazione mista e ci sono tutti i servizi che abbiamo fatto affluire nella nostra biblioteca di cui qualcun altro si occupa e si occupa della gestione e ci sono tecnologie che ci consentono di integrare altri servizi all'interno di una struttura già esistente ecco quindi abbiamo messo di tutto all'interno dalle previsioni del tempo ai programmi televisivi all'interno di una web page e questo è lo stesso concetto della nostra biblioteca è una mashup library proprio perché associamo tutti questi elementi grazie all'attività anche dei nostri partner ora contiamo più di 130 partnership sono delle ONG delle associazioni e delle attività basate nella società civile ci sono anche dei servizi pubblici di altra natura non sono servizi commerciali questo no però finché i partner sono in linea con l'obiettivo generale della biblioteca che è quello di promuovere l'educazione l'esperienza culturale la lifelong learning quindi l'apprendimento per tutta la vita si può essere partner nostri questa è una settimana qualunque novembre dell'anno scorso c'erano ben 42 attività in corso nella biblioteca per lo più gestite attraverso partnership noi abbiamo fornito la sede il luogo il pubblico perché sono in tanti a venire alla nostra biblioteca quindi questa è una situazione win-win per i partner e per noi il gioco e la alfabetizzazione primaria sono attività che hanno un ruolo di primaria importanza nella nostra biblioteca questo è il nostro Nobel in Economia che dice investite nello sviluppo della prima infanzia è una delle cose che più beneficiano la società perché le implicazioni di una mancanza da questo punto di vista sono orrende sono orribili un bambino che non impara a scrivere a leggere diventa un elemento problematico per la società spesso frequenta i carcere sembra una maniera cinica di vedere le cose però è vero bisogna investire nell'istruzione primaria e nel gioco per rendere i cittadini di domani migliori ecco quindi come avviene qui c'è un avvio alla lettura lettura con i bambini queste sono immagini ispirazione lettura solitaria abbiamo anche attività teatrali questa è la nostra piattaforma interattiva con 15 giochi diversi alcuni solo a fini ludici altri a fini istruttivi e c'è una azienda che è proprio già installato questa piattaforma abbiamo anche delle attività di informazione e anche i videogame che è una modalità nuova di appassionare i nostri utenti a volte può essere difficili per i bambini perché magari sono i genitori a volersi sedere davanti alla console giochi da tavolo scacchi giochi creativi e diversi giochi che migliorano la creatività abbiamo i lego i maxi lego e poi abbiamo altri giochi di costruzione giochi di vario genere ma abbiamo anche degli eventi culturali come cori conferenze naturalmente bisogna anche avere un luogo per la pausa pranzo e quindi abbiamo realizzato uno spazio anche per questo ma perché è così importante non solo il cibo ma tutto quello che facciamo per i bambini beh il gioco ha una sua significatività nella nostra modalità di pensiero quando si gioca si tende a sviluppare più socialità probabilmente si impara anche di più se si è bravi a giocare il gioco comunque ha un suo significato proprio come le esperienze culturali letterarie artistiche si tratta di esperienze di vita e accade quando deve accadere quindi anche il gioco ha un suo significato in questa fascia d'età e questo significa che il gioco è stato collocato proprio in parallelo con esperienze artistiche e letterarie proprio perché ha una sua significatività e questo ha molta implicazione rispetto al modo in cui si costruisce una biblioteca se deve ospitare queste attività e se deve fornire questi servizi se si pensa proprio che il gioco abbia un significato come quello che noi gli attribuiamo si passa poi alla maker culture e alla co-creation la co-creazione forse conoscete che cos'è l'hacking l'hacking non è solo un qualcosa di negativo in realtà la connotazione è positiva significa migliorare le cose migliorarle insieme rendendole più utili condividendo le idee e gli spazi di lavoro ma anche le performance queste sono immagini di questi fine settimana organizzate alla biblioteca dove vengono persone a giocare videogiochi addirittura creando dei videogiochi o migliorandoli ecco gli hacker lab ma abbiamo anche trovato altri format innovativi per queste attività abbiamo creato il people's lab per le cose tecniche dove le persone possono tutte confluire qui e aiutarsi a fare le cose o fare brainstorming sulla soluzione di alcuni piccoli problemi e poi ci sono fasce d'età le più diverse che vengono a partecipare a queste attività in biblioteca vedete che c'è una signora di una certa età con i bambini spesso vediamo nonni con i nipoti questo personaggio in verde è uno dei volontari che animano gli spazi aperti della biblioteca di Horus molto spesso si tratta di studenti che studiano materie tecniche e vengono a dare una mano quindi abbiamo molte di queste attività comprese le maker fair abbiamo poi anche i coding pirates cioè i bambinetti che hanno imparato a lavorare sui computer nel tempo libero e abbiamo anche il concetto del design thinking che abbiamo proprio adottato nello sviluppo di questi servizi perché dobbiamo accelerare l'evoluzione dei nostri servizi per rimanere al passo con la società abbiamo lavorato con la Chicago Public Libraries con la Bill & Melinda Gates Foundation abbiamo sviluppato proprio questo documento che è scaricabile gratuitamente ed è tradotto in una serie di lingue sicuramente in francese in cinese sì non sono sicuro che sia stato ancora tradotto in italiano però è un ottimo supporto proprio per la progettazione delle biblioteche l'ultimo tema di cui vorrei parlarvi è questa idea della biblioteca connessa con lo sviluppo delle smart cities e lo sviluppo della smart city è molto forte in molte aree d'Europa probabilmente anche in Italia ma per certo in Spagna nel Regno Unito e altrove questo concetto di smart city sta prendendo il sopravvento e sono città dove la tecnologia si va sviluppando ora Aurus da cui provengo è la seconda città di Danimarca abbiamo una delle migliori università e siamo una città molto giovane una delle più giovani in tutta Europa e siamo una delle principali smart city e capitali della cultura quest'anno quindi c'è veramente un buon motivo perché la nostra biblioteca assume un ruolo attivo in questo quadro e abbiamo molti progetti proprio dal punto di vista della smart city uno di questi progetti è il city pause ed è la biblioteca che si occupa di centralizzare i big data della città la città ne crea tantissimi ad esempio dati dei sensori sulla situazione della viabilità del meteo eccetera abbiamo dati un po' di ogni genere tutti questi big data vengono resi visibili su una piattaforma realizzata alla biblioteca che è sotto la nostra gestione organizziamo anche degli eventi abbiamo per esempio organizzato gli open culture days abbiamo invitato gli sviluppatori a venire alla biblioteca per lavorare sugli open data a carattere culturale diamo anche ospitalità ai giovani offriamo da bere e da mangiare creiamo anche occasioni di contatto con dei mentor perché diventi uno spazio creativo questi giovani rimangono in biblioteca e lavorano tutto un fine settimana durante questi eventi quelli che vedete qui sono quelli che hanno vinto un concorso avendo creato una app che i volontari dell'archivio del cittadino hanno poi messo sulla piattaforma hanno adesso questa app che è stata prima sviluppata per gli archivi cittadini adesso è stata commercializzata dalla piccola azienda che hanno creato facciamo anche altre iniziative tra cui gli open tourism days ma facciamo anche dei design thinking camp proprio per i cittadini dei service jam sviluppiamo diversi servizi in maniera collaborativa e poi partecipiamo al festival danese di internet c'è la settimana danese di internet il prossimo progetto che animeremo sarà la creazione del city lab che proprio sul fronte del porto vicinissimo alla biblioteca si tratta di spazi aperti dove ci sono delle strutture sportive con un grande afflusso di pubblico metteremo grandi schermi proprio in quest'area dove saranno visibili i dati della città tutto sarà collegato a tutta una serie di sensori e tutta una serie di allacciamenti sotterranei e poi cerchiamo di creare coinvolgimento digitale per i cittadini naturalmente ci sono attività di pianificazione in corso nella città adesso si sta pensando a realizzare una piattaforma digitale per far partecipare i cittadini in maniera attiva grazie a queste piattaforme e proprio questo è quello che ci auguriamo di realizzare cioè far confluire tutte le informazioni in un unico luogo in maniera che siano facilmente accessibili condivise e disponibili a tutti e stiamo partecipando siamo finalisti alla città d'Europa proprio per il nostro livello di innovazione abbiamo organizzato come accennavo prima le maker fair facciamo partecipare diverse persone in iniziative nuove sono sempre dei pop up non abbiamo uno spazio dedicato non vogliamo essere ripetitivi e poco interessanti vogliamo che sia un evento che sia un'esperienza fuori dall'ordinario per chi partecipa e queste sono alcune immagini che documentano le varie iniziative e come potete vedere partecipano tutte le generazioni sono interessati un po' tutti questo è un workshop sull'uso dei droni abbiamo parlato di come funzionano i droni che cosa si può fare con i droni come si usano avete visto la ragazza che ne stava guidando uno qui abbiamo i coding pirates ma abbiamo anche il lego mindstorm che è un'altra modalità di addestramento all'uso dei computer e anche il lavoro a maglia può diventare interessante e anche per i piccoli e questo è l'ultimo dipendente assunto è il nostro robot norma è un robot una robot umanoide che parla inglese al momento ma la stiamo addestrando a parlare in danese potrebbe essere qualcuno che ascolta attentamente i bambini mentre leggono ad alta voce sapete che tanti bambini hanno esitazione a leggere ad alta voce ma norma che stabilisce contatto visivo è molto empatica e quindi è molto gentile molto paziente e quindi farà domande interessate e quindi darà incoraggiamento a questi bambini ecco è un po' l'equivalente del reading talk che forse avete sentito nominare cioè l'esperienza dell'avere un cane seduto di fianco a un bambino a cui il bambino legge che però dopo un po' perde la pazienza invece il robot è un po' più costoso del cane però poi è più paziente insomma funziona molto bene allora tutte queste cose queste cose ovviamente richiedono competenza da parte del personale quindi il personale deve sapere insegnare fare tutoring quindi accompagnamento in questo caso nell'apprendimento digitale dei più anziani anche il facilitatore queste sono immagini del lavoro fatto con i bambini questa ragazzina che vedete qui ha detto che voleva sentire il canto degli uccellini nella biblioteca non sapevamo troppo come avremmo potuto fare ma alla fine abbiamo installato due soundscape nella biblioteca dove siamo in grado con i quali siamo in grado di emulare il canto degli uccelli quindi è stata la ragazzina a darci proprio questa idea quella dell'immagine ma lo staff deve essere anche un po' project leader anche un po' sviluppatore e naturalmente anche un po' animatore e qualcuno che abbia una mentalità orientata al servizio quindi in sintesi attualmente abbiamo un milione e trecentomila visitatori l'anno quest'anno probabilmente ci avviceremo più al milione quattrocentomila visitatori in una città di trecentotrentamila abitanti appena questo è esattamente tre volte il numero di visitatori della vecchia biblioteca quindi tante sono le cose che avvengono in questo luogo fisico e proprio questo richiama il pubblico siamo andato siamo passati dalle transazioni cioè il prestito dei libri alla costituzione alla creazione di relazioni con le persone questa è una citazione di Autenson che è un ricercatore che si occupa di biblioteche che dice che le biblioteche sono luoghi di incontro a bassa intensità e creatori di capitale sociale e di fiducia io non mi trovo completamente d'accordo anzi direi che siamo luoghi di incontro ad alta intensità non a bassa intensità correggere quindi questa citazione vi ringrazio per la vostra attenzione concludo qui grazie grazie la parola adesso a David Potts che è responsabile a Birmingham delle risorse della biblioteca ha una lunga esperienza come bibliotecario in questo momento questo dipartimento la sezione delle risorse della biblioteca comprende archivi collezioni speciali conservazione tutto quello che è logistica dell'edificio la sicurezza la messa a disposizione degli spazi e i servizi IT ha partecipato alla progettazione della nuova sede biblioteca di Birmingham e soprattutto alla progettazione dei nuovi servizi ha lavorato in precedenza all'MLA l'organismo che in Inghilterra il council che in Inghilterra ha messo insieme musei archivi e biblioteche e in particolare poi ha collaborato al progetto attraverso cui si è sviluppata la disponibilità di connettività internet in tutte le biblioteche del Regno Unito prima di lavorare a Birmingham ha avuto veramente l'esperienza a tutti i livelli quello che noi diciamo è un'esperienza dalla gavetta nei servizi di biblioteca e anche nella dimensione delle biblioteche in cui ho operato per cui da un altro punto di vista affrontiamo adesso da un'altra faccetta questo stesso diamante a molte faccette che può avere questa forza del diamante nel giocare un ruolo per lo sviluppo di città che siano effettivamente brillanti e smart come desideriamo che diventi anche Torino la parola a David Potts grazie Rolf ci parlava così della perdita dei capelli di aver perso i capelli ma penso che forse la cosa possa essere associata alla costruzione della nuova biblioteca sono David Potts sono responsabile della biblioteca di Birmingham e delle risorse bibliotecarie quindi parliamo di archivi di sistemi informatici della logistica e dell'organizzazione di eventi di varia natura un pochino fra un pochino vediamo qualche dettaglio io vorrei parlarvi di quello che è stato il percorso che abbiamo intrapreso prima naturalmente nella progettazione poi con l'inaugurazione e poi con il funzionamento effettivo e tutti i suoi alti e bassi naturalmente e vedremo come ci siamo poi impegnati molto con la comunità e come l'abbiamo coinvolta abbiamo aperto nel settembre del 2013 quindi ormai sono passati quattro anni Francine Huben è stato l'architetto un architetto olandese dello studio Meccano 189 milioni di sterline più o meno 130 milioni di euro e riceviamo un milione e mezzo di visite all'anno quindi globalmente dall'apertura abbiamo avuto 7 milioni di visitatori una delle cose più belle che riguardano questa biblioteca è il suo aspetto un aspetto davvero unico che è diventata veramente la firma della città e questo significa che quando si guardano gli edifici di una città questi possono davvero diventare il modo in cui si viene ricordati in tutto il mondo e questa certamente non era la caratteristica di Birmingham io credo che sia la più grande biblioteca pubblica in Europa 35 mila metri quadri con 11 piani quindi insomma un bel edificio una certa dimensione e così per situare la città geograficamente vedete che si trova veramente al centro dell'Inghilterra a metà strada fra Londra e Liverpool e Manchester è la seconda città per grandezza nel Regno Unito partiamo con qualche dato sulla storia della città di Birmingham così per tracciare un po' il contesto è a Birmingham che iniziò la rivoluzione industriale in Inghilterra e fu un periodo di grande cambiamento di grande transizione prima le cose si facevano artigianalmente e poi questa produzione artigianale fu sostituita dalle macchine Birmingham quindi divenne davvero una città innovatrice tanto che venne chiamata la città dei mille mestieri per tante ragioni perché lì cominciarono a prodursi cinture fucili gioielleria bilance eccetera 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 questa immagine naturalmente non è la Birmingham di oggi è un'immagine del 1760 parliamo adesso della popolazione di Birmingham abbiamo un milione di abitanti quindi credo che sia più o meno la dimensione di Torino no? più o meno e l'area più ampia che si chiama le West Midlands le Midlands occidentali che comprende appunto tutti i comuni intorno a Birmingham arrivano a 5,3 milioni quindi arriviamo più o meno alla popolazione di Londra dunque abbiamo una bella densità demografica dove Birmingham è il punto più denso il 36% degli abitanti appartengono a comunità di minoranze etniche e questo significa quindi culture che vengono insomma da fuori del Regno Unito con 50 lingue parlate nella città quindi Birmingham è la seconda città in Europa per diversità la prima è Amsterdam il 46% degli abitanti ha meno di 30 anni rispetto alla media inglese che è pari al 39% veniamo adesso all'economia locale perché è importante diciamo così tracciare il quadro nel quale poi è nata la biblioteca di Birmingham abbiamo una disoccupazione superiore alla media la media nazionale e analogamente abbiamo un numero di persone senza qualifiche superiore alla media nazionale e questo in qualche modo risponde anche alle domande sollevate da Rolf prima sullo scopo della costruzione di una biblioteca abbiamo cinque università in città e quello che tende a succedere è che gli studenti vengono a studiare a Birmingham quindi ricevono il loro titolo di studio e poi vanno via e questo è veramente frustrante quindi la città sta veramente lavorando a cercare di mantenere i laureati a impedire che fuggano Birmingham d'altro canto ha una immagine così ecco non proprio entusiasmante a livello nazionale vi dicevo prima che Birmingham non è particolarmente famosa per l'architettura anche se questo sta cambiando ma ci sono diciamo varie ragioni e forse anche il nostro accento ci sono tuttavia dei segnali positivi che vanno rimarcati perché recentemente c'è stata una forte crescita economica abbiamo veramente avuto dei grossi risultati su questo fronte a partire dal 2016 è diventato una destinazione turistica stiamo registrando delle cifre da record 39 milioni di turisti nel 2016 una cifra incredibile e poi abbiamo veramente un grande movimento in termini di nascite di uffici quindi il settore lo sviluppo del settore residenziale tutto ciò in forte crescita e adesso passiamo alla storia della biblioteca centrale a Birmingham la prima risale al 1865 come potete vedere non fece proprio una buona fine ci fu un terribile incendio e la biblioteca fu distrutta con la maggior parte dei libri che c'erano in essa ne fu costruita una nuova alcuni anni più tardi nel 1882 questa biblioteca resse per più di 80 anni e sicuramente era una biblioteca che aveva qualcosa di speciale poi arriviamo a quella che ha preceduto la biblioteca di Birmingham attuale 1964 e questo perché la biblioteca precedente era ormai troppo piccola per contenere tutte le nuove risorse e vedete che l'architettura è davvero molto diversa in Inghilterra noi per questo movimento abbiamo un termine brutalism brutalismo sapete che l'architettura vede opinioni molto differenti a qualcuno piace molto questa architettura io non faccio parte di quel gruppo altre persone ecco detestano invece questa tipologia architettonica ed ecco la nuova biblioteca di Birmingham come vi dicevo prima risale al 2013 ecco molto brevemente su questo punto una delle caratteristiche della nuova biblioteca è la sala Shakespeare Memorial questa fu la sala originale costruita nella biblioteca precedente che quindi risale al 1882 e il fatto di creare questa dicotomia questa giusta posizione dell'antico e del nuovo è piaciuta molto quindi è uno degli spazi più visitati nella biblioteca e questa cosa mi diverte sempre perché è una sala dell'Ottocento che aveva lo scopo naturalmente di rendere omaggio a Shakespeare e in un edificio del ventunesimo secolo vedete la biblioteca che vedete la parte superiore a destra ecco fu quella la biblioteca dove nacque quel tipo di sala e invece se questa la confrontiamo con l'immagine sotto vedete quell'oggetto circolare sopra il tetto ecco è proprio lì che c'è la sala di Shakespeare non credo che tutto questo sia stato scelto a caso quindi Shakespeare è stato messo proprio in cima all'edificio naturalmente come tutti sapete Shakespeare era nato a Stratford che è proprio la zona dove Birmingham riveste il ruolo di capoluogo naturalmente è un'architettura molto particolare ma la gente non viene solo per vedere l'architettura assolutamente no una delle cose che abbiamo visto fino ad ora quindi l'aspetto esterno e la contrapposizione del nuovo e dell'antico naturalmente sono aspetti importanti ma l'aspetto cruciale è invece il collegamento con il territorio con la comunità e una delle cose più belle che riguarda questa nuova biblioteca è proprio il modo in cui le persone l'hanno presa a cuore si sono proprio affezionate hanno cominciato ad utilizzarla e a nutrirla in un certo senso quindi prima della costruzione della biblioteca abbiamo fatto molti incontri con il quartiere con la città la prima consultazione fu una consultazione molto ampia si trattava semplicemente di porre delle domande molto generale e cioè quali sono le qualità che tu auspicheresti in una nuova biblioteca quindi la prima risposta fu quella di una biblioteca accogliente accessibile a tutti e poi naturalmente bisogna passare al fare quindi come rendere accogliente accessibile una biblioteca bisogna che il personale sia competente e gentile e poi c'è anche l'aspetto architettonico quindi un bel edificio attraente ben inserito nel proprio contesto anche questo molto importante quindi andando a cercare di capire meglio poi come tutto ciò si traduce in una nuova biblioteca abbiamo realizzato un altro round di consultazioni abbiamo parlato della diversità della città e quindi è emerso ad esempio che la gente avrebbe desiderato uno spazio dove poter pregare e in effetti quando ci si trova in questa biblioteca voglio dire quando si girava in biblioteca ci si rendeva conto che qua e là la gente trovava degli angoli per poter pregare nel proprio occulto e abbiamo pensato che ci voleva uno spazio specifico per questo e poi un caffè ne abbiamo costruito uno nuovo nella nuova biblioteca ed è uno spazio che si trova si incontra immediatamente appena si entra poi la gente voleva un negozio un negozio che vendesse non lo so degli articoli utili in biblioteca ma anche dei souvenir poi naturalmente le toalette certo è una cosa che ci crediato o meno veniva quasi in cima alla lista la gente voleva essere rassicurata che dato che si tratta di un edificio molto molto grande ecco che ci fossero delle toalette un po' ovunque beh non è stata la parte più entusiasmante del progetto ma ci siamo dedicati anche a questo e poi i servizi per i bambini per i giovani per le famiglie durante le consultazioni è emesso chiaramente che la biblioteca interessa alle famiglie e quindi ci siamo anche molto focalizzati su questo spazi di apprendimento e quindi è importante che ci siano degli spazi silenziosi c'è tutto un movimento in Inghilterra che si oppone a questo beh non è che la gente chiedesse che tutta la biblioteca fosse una tomba però voleva che ci fossero degli spazi silenziosi si è richiesto anche un arredamento confortevole delle zone di ristorazione quindi un caffè spazi per le famiglie arredamento confortevole zone di ristorazione questo indica che la gente voleva trascorrere del tempo molto tempo in biblioteca ovviamente era necessario anche creare accessibilità nell'edificio accessibilità per i disabili in modo che ci si possa spostare nello spazio su una sedia a rotelle o su un veicolo per disabili abbiamo già fatto precedentemente riferimento a personale amichevole e abbiamo dovuto subito trovare del personale nella vecchia biblioteca non si portava una divisa diciamo così e invece è emersa la necessità di poter individuare il personale un personale che doveva essere gentile e competente e che non fosse dietro una scrivania ma che fosse in movimento negli spazi della biblioteca e pronti a rispondere alle richieste quindi personale facilmente individuabile come esigenza c'è stata una lunga ma non vorrei usare il termine battaglia forse sarebbe esagerato ma veramente si è discusso moltissimo sulla divisa che avrebbe dovuto portare il personale insomma sono stati creati dei comitati guida delle commissioni hanno discusso veramente molto a lungo e alla fine abbiamo trovato qualcosa che fosse un buon compromesso e siamo fortunati del fatto che le persone che hanno fatto da modelli la persona che ci ha fatto da modello è diventato un super modello a livello internazionale sono io avete capito che sono io vedete questo bel gilet che portano tutti i membri dello staff e che li rende davvero individuabili quindi è facile per le persone trovarli e questo significa rendere più accessibile il personale vi dicevo c'è stata molta discussione su questa divisa sul tipo di abbigliamento ma tutto è scomparso è svanito il primo giorno non appena ecco abbiamo trovato questi gilet e ci siamo accordati per questi gilet è arrivato il giorno dell'inaugurazione ce li siamo messi è svanita tutta la conflittualità questo è il giorno dell'inaugurazione vedete che è arrivata un bel po' di gente in questa hall quindi molti cittadini hanno voluto venire e partecipare anche questa è un'immagine della prima giornata e vedete quella coda quella lunga coda di persone la coda per visitare la nuova biblioteca di Birmingham è veramente una lunga coda è una coda anche larga pensate 3-4 persone ecco io vorrei vederne ancora di code di questo tipo di fronte a una biblioteca pubblica è stato molto bello la coda peraltro è continuata per diversi giorni e tra l'altro un giorno si è messo a piovere e c'erano tutti questi vivaci ombrelli a dimostrazione della determinazione delle persone a visitare la biblioteca siamo stati molto fortunati a ospitare Malala che venne ad inaugurare la biblioteca come sapete Malala fu attaccata in Pakistan dai talebani poi a Birmingham poter guarire e quindi ormai Birmingham è diventata la sua seconda patria anche se studia all'università di Oxford e siamo molto contenti di aver avuto una persona come lei che è veramente un modello di ruolo è veramente un grande esempio soprattutto per le ragazze e poi abbiamo avuto un altro visitatore speciale il principe Williams il duca di Cambridge che ha fatto dello storytelling con i bambini e nel corso della sua visita io avevo un compito molto importante che espletai in modo immacolato dovevo aprirgli la porta abbiamo parlato dell'architettura dunque abbiamo parlato del processo di consultazione con i cittadini è anche importante parlare dei servizi che la biblioteca fornisce anche se è una nuova biblioteca sono tante le cose che offre e che si associano naturalmente a una biblioteca naturalmente i servizi per i bambini organizziamo degli eventi di alfabetizzazione di storytelling naturalmente prestiamo libri e abbiamo poi i servizi archivistici quindi ad esempio se si vuole fare una ricerca araldica sulla propria famiglia oppure se si vuole sapere di più sulla storia di Birmingham si possono effettuare queste ricerche nell'ambito dei nostri servizi di heritage processo di consultazione si diceva che erano stati chiesti degli spazi silenziosi degli spazi di lettura si può leggere all'interno della biblioteca quindi c'è un sistema naturalmente molto friendly abbiamo creato un IP network center laddove forniamo servizi a dei giovani imprenditori organizziamo dei corsi ad esempio che tengono gli avvocati per le aziende per queste start up quindi consulenza diciamo aziendale ci sono anche dei pacchetti di apprendimento online ma anche dei corsi in presenza c'è stato un evento molto carini dove abbiamo ospitato un progetto che si basa su del cibo che diciamo ha superato la data di scadenza e che viene poi distribuito ecco che ha questo scopo di distribuzione del cibo in scadenza la biblioteca di Birmingham è anche nata per poter mostrare le proprie splendide collezioni che non hanno solo un valore finanziario ma un grande valore culturale abbiamo tutta una collezione di Shakespeare questa immagine è una delle più antiche uno dei libri più importanti nella lingua inglese abbiamo soltanto 250 copie presenti in tutto il mondo e noi abbiamo una di queste collezioni ci sono naturalmente tutte le commedie e poi abbiamo anche una collezione di James Watt l'inventore del motore a vapore nato a Glasgow ma poi trasferito a Birmingham per costruire le proprie macchine e abbiamo tutta la collezione con tutte le sue note originali e direi che davvero siamo stati molto fortunati nel poter disporre di queste due collezioni e poi abbiamo un'enorme collezione fotografica questa immagine del 1911 il Buffalo Bell Show nella Corporation Street di Birmingham e non c'era internet all'epoca dalle facce posso solo immaginare ciò che pensassero abbiamo anche molte collezioni musicali e che ci crediate o no ma questa è una delle collezioni sono dei biglietti di tram di bus appunto i tremi e c'è gente che chiama da tutto il mondo e che chiede informazioni su questi biglietti io non capisco bene perché sia così attraente questa collezione ma è così ha veramente molto successo beh questa non è così allegra diciamo magari ci torniamo se abbiamo tempo dopo tanti eventi anche abbiamo fatto cenno prima questi eventi eventi artistici musicali vari tipi di spettacoli di performance c'è qualcuno fra il pubblico che viene dall'Inghilterra che è inglese britannico lo chiedo perché l'immagine che vedete in fondo a destra si chiama e si riferisce a una danza il Morris Dancing risponde semplicemente ad una domanda e cioè perché sopra ad ogni slide abbiamo fatto riferimento a questa domanda e cioè riscrivere i libri abbiamo lavorato moltissimo con con la comunità per cambiare la cultura l'approccio alla biblioteca non volevamo mettere il vecchio vino in una nuova bottiglia ma volevamo veramente cambiare le cose quando si viene a visitare questa biblioteca ci sono delle cose immediatamente riconoscibili come facenti parte di una biblioteca abbiamo poi un archivio abbiamo delle collezioni uniche abbiamo molti spazi per gli eventi dal teatro ad una galleria spazi per delle mostre è un punto di aggregazione sociale la gente viene a incontrare gli amici a studiare con gli amici semplicemente per stare con gli amici è un luogo anche dove si tengono riunioni aziendali soprattutto il caffè si incontrano lì organizzano proprio delle riunioni la biblioteca è diventata un'attrazione turistica è l'unica biblioteca in Inghilterra credo ad essere un luogo che la gente viene a vedere per turismo l'altra biblioteca è la British Library credo quindi quando la gente viene a Birmingham una delle cose che vuole assolutamente vedere è la biblioteca quindi come attrazione turistica la biblioteca è veramente un concetto interessante abbiamo parlato del numero record di visitatori a Birmingham e sicuramente la biblioteca ha dato un contributo sostanziale e poi abbiamo anche una scuola di lingue in biblioteca la Brass House Language School si insegnano varie lingue compreso l'italiano mi spiace ma non ho diciamo colto e quindi se avessi fatto i corsi alla Brass House Language School potrei parlarvi in italiano oggi certo sarebbe stupido negare che ci sono stati momenti difficili anche nella storia della biblioteca nel 2015 ecco quindi ho raggiunto i 30 minuti zitto zitto ci sono stati momenti difficili vi dicevo proprio perché ci sono stati tagli tagli nazionali e certo non soltanto per la nostra biblioteca però siamo stati colpiti perché abbiamo perso il 50% del personale abbiamo quindi dovuto ridurre gli orari di apertura il morale naturalmente ne ha risentito e eravamo ovviamente nell'occhio del ciclone cioè eravamo veramente al centro dell'attenzione della città ma siamo stati in grado di riprenderci di trovare nuovi fondi trovare nuovi nuovi partner perché non si può fare tutto da soli abbiamo celebrato il 150esimo anno come reference library a Birmingham e la gente continua a cercarci questo è bellissimo e questi sono alcuni dei progetti che abbiamo realizzato con dei partner e vi lascio con quest'ultima slide per una nuova biblioteca è cruciale stabilire un collegamento con i cittadini perché altrimenti non ha senso e naturalmente anche i turisti diventare attraenti anche per i turisti qui potete vedere ad esempio i giardini che possono essere utilizzati per leggere semplicemente per godersi il solo o per qualunque altra cosa il caffè il wifi e i servizi internet sono gratuiti per creare quell'effetto rete che dicevamo tutto ciò è stato veramente centrale per noi c'è un teatro ci sono delle sale riunioni e questo ha creato veramente un grosso legame della città con la biblioteca e vi lascio con questa immagine ringraziandovi per la vostra attenzione invito a questo punto al tavolo Gianni Stefanini che sarà seguito poi da Simona Villa e qui ci spostiamo ai nostri vicini lombardi nelle note di presentazione Gianni Stefanini fa arrivare le sue notizie dal 97 in avanti nella sua seconda vita come anima del consorzio dei servizi bibliotecari per con i primi esperimenti di automazione di biblioteche di contatti fra Novate settimotorinese oggi dicevo prima è l'anima il direttore generale del consorzio dei servizi bibliotecari e che si è posta come azienda di servizio per lo sviluppo delle grandi opportunità stavo di nuovo dicendo di servizio che le biblioteche offrono alla collettività del territorio di riferimento soprattutto nella capacità di uscire dal tradizionale recinto come dire di cui si collocavano come scenario quello che le biblioteche devono fare e la capacità di mutuare dalla società civile dal resto della società civile le modalità di intervento perché i servizi vengano resi nel modo più efficiente e più efficace possibile ma nessuno meglio di lui può introdurre quello che poi dopo Simona Villa che è progettista e responsabile di progetto e curatrice dell'attività di fundraising sempre per il consorzio svilupperà per noi quest'oggi grazie io sono sempre molto onorato quando gli amici torinesi mi invitano a fare qualche intervento io ho un rapporto speciale di affetto con questa città ci ho passato otto anni venendo avanti indietro a raccontare agli studenti dell'università le cose che facevamo per cui penso che coloro che lavorano nelle biblioteche oggi già un po' conoscano quello che stiamo facendo infatti quando mi chiedono quanti anni ho io dico 20 dal 97 è vero c'è una lunga storia però quella col CSBNO che si è che ho ripreso dopo aver cominciato a Novate con una serie di esperienze ragionando e provando qui parliamo di archeologia bibliotecaria stiamo parlando cercando di lavorare sempre sull'innovazione e la cooperazione che sono i temi forti che mi hanno accompagnato in questa lunga attività professionale e quest'anno il CSBNO compie 20 anni dal 97 al 2017 e noi lo lo celebriamo proviamo a raccontare la sua storia in un convegno che faremo faccio un po' di pubblicità il 28 novembre a Milano al base di Milano fuori dal nostro territorio sulla città per provare a lanciare un nuovo messaggio alle biblioteche italiane perché c'è un concetto che vorrei sottolineare qui nelle slide poi magari ci torno nelle slide abbiamo provato a rappresentare la visione sulla quale abbiamo lavorato una visione all'interno del territorio una visione all'esterno del territorio allora all'interno del territorio abbiamo provato a lavorare sull'integrazione di tutte le forme delle attività culturali del territorio di tutti i servizi di tutte le attività culturali del territorio provando a mettere le biblioteche al centro di una rete fitta di valorizzazione del territorio per questa ragione per esempio il ruolo che svolge Simona Villa oramai da più di 10 anni forse anche di più poi no ma lei è più giovane per il CSBNO di di ricerca realizzazione dei bandi soprattutto nella direzione della valorizzazione del territorio è proprio uno degli aspetti cruciali sui quali lavoriamo valorizzazione del territorio che è un po' la sponda sulla quale ci siamo ci siamo posti nell'analisi della della situazione un po' di crisi di difficoltà della biblioteca pubblica perché questo è un po' il punto di partenza se non partiamo un po' dalla consapevolezza che in Italia in particolare ma penso in generale la biblioteca nel suo nel suo modello tradizionale che abbiamo interpretato è andato un po' in crisi la tecnologia l'ha messa un po' in crisi l'economia gli ha tagliato le risorse io credo che tutti noi misuriamo quasi quotidianamente questa difficoltà noi abbiamo provato ad affrontare questa situazione di crisi su due piani da una parte provare a reinventare la biblioteca prima a capire se la biblioteca potesse ancora avere un ruolo nella società e questo non solo perché ci lavoriamo e quindi dobbiamo garantirci lo stipendio e quindi dobbiamo motivare la nostra presenza ma perché siamo fermamente convinti che la biblioteca con la sua articolazione soprattutto nei territori nelle grandi città probabilmente si deve misurare con altre sfide ma nei territori decentrati la biblioteca è davvero l'unico soggetto che può valorizzare il territorio rilanciare e costruire una rete di relazione sul territorio per la sua valorizzazione allora abbiamo provato a reinventare il ruolo in funzione i servizi e i servizi della biblioteca e devo dire che da questo punto di vista man mano che poi trovavamo incontravamo le esperienze al di fuori dell'Italia esperienze internazionali abbiamo avuto una grande consolazione nel capire e nel renderci conto che la strada che stavamo intraprendendo era una strada corretta e quindi esperienze come quella di Horus io personalmente avevo visitato ancora nel 1981 in un viaggio di bibliotecari milanesi nelle terre danesi e poi abbiamo rincontrato sulla strada sulla nostra strada negli ultimi anni col design thinking e con e con il progetto europeo di cui poi parlerà Simona davvero abbiamo compreso che la strada del riprogettare i servizi della biblioteca era la strada la strada giusta ma l'altro piano sul quale abbiamo ragionato in questi anni è che se non se non abbiamo uno sguardo anche all'esterno del nostro territorio se non abbiamo uno sguardo all'insieme delle biblioteche rischiamo di costruire una cattedrale nel deserto che poi rischia di avvizzirsi una pianta che rischia di avvizzirsi e quindi abbiamo nel corso degli anni abbiamo davvero coltivato e provato a sviluppare l'idea che le biblioteche attraverso le reti bibliotecarie devono creare delle forti alleanze perché attraverso la dimensione la capacità di mettere insieme le risorse economiche e di intelligenza di tutti possiamo costruire un futuro per tutte le biblioteche non per un solo territorio perché non funzionerà mai ma per le biblioteche in generale ritorno un attimo su questa slide per mostrarvi un elemento questo è il nostro territorio territorio nord ovest di Milano sono 33 comuni sono 780.000 abitanti che cosa c'è di rilevante in questo disegno semplicemente il fatto che abbiamo messo insieme una quantità rilevante di risorse di fiscalità generale per poter fare investimenti ricerca lavoro sviluppo solo da una dimensione sufficientemente ampia gestita nel nostro caso da un soggetto un'azienda speciale con personalità giuridica con una capacità propria di investimento e di sviluppo siamo riusciti a costruire lo sviluppo e l'evoluzione dei servizi ma per quanto grande possa essere questo territorio noi siamo cresciuti dal 97 ad oggi siamo passati da una dimensione aziendale di un bilancio di 350.000 euro nel 97 a un bilancio di 5 milioni e mezzo nel 2016 e 2017 bilancio di previsione da 6 persone che lavoravano nel 97 a 70 dipendenti attuali perché gestiamo anche le biblioteche perché gestiamo dei servizi diretti per conto dei comuni perché costruiamo un livello di gestione diverso che ci ha dato la dimensione per poter fare gli investimenti ma il tema e la consapevolezza è che se rimaniamo confinati in questo territorio pur con la dimensione che abbiamo non riusciremo mai a fare quei passi che ci consentiranno di consolidarci in maniera adeguata quindi il messaggio è abbiamo bisogno della comunità bibliotecaria nel suo insieme da soli non ce la possiamo fare per quanto oramai siamo abbastanza forti e consolidati ma da soli non ce la possiamo fare noi quest'anno proveremo a lanciare grazie proveremo a lanciare il progetto il messaggio della rete delle reti una proposta con la quale chiediamo le reti bibliotecarie italiane sono 200 in Italia le reti bibliotecarie abbiamo 44 in Lombardia non so quante ce ne sono in Piemonte insomma 20 lanciamo un messaggio perché le reti bibliotecarie devono trovare un modo per mettersi a collaborare insieme perché se lavorano insieme possono avere dimensione forza capacità e intelligenza quell'intelligenza collettiva che ci fa crescere per far crescere complessivamente le biblioteche non la singola realtà non cinisello nel nostro territorio con 500.000 presenze 250.000 prestiti oppure la San Giorgio di Pistoia oppure le biblioteche che tutti noi conosciamo di qualità dobbiamo crescere insieme perché altrimenti queste realtà non possono consolidarsi adeguatamente e soprattutto non possono crescere delle altre realtà e quindi questo è un po' il messaggio che in qualche modo abbiamo provato a costruire a lanciare a coltivare e che maggiormente quest'anno con il convegno del 28 novembre e con un numero speciale di biblioteche oggi che con le nostre risorse faremo distribuire a tutte le 5.000 biblioteche italiane per provare a dire è arrivato il momento di metterci insieme perché così da soli non possiamo andare avanti metterci insieme vuol dire costruire quei progetti di cambiamento e innovazione che noi stiamo non timidamente siamo decisamente provando a sperimentare sul nostro territorio ma che vivono solo se la cultura complessiva di questo paese sarà capace di guardare la biblioteca in un altro modo per fare questo per fare questo abbiamo lavorato uno degli strumenti che abbiamo identificato è quello del del progetto europeo di cui adesso ci parlerà Simona Villa del design della disseminazione nel resto in Italia e nel resto dell'Europa di un modello di rapporto nuovo nelle biblioteche io devo dire che prima ancora di approdare al design thinking e a queste visioni devo dire da molti anni quando incontravo i colleghi bibliotecari o gli studenti all'università facevo la stessa domanda qual è il patrimonio di una biblioteca e nella maggioranza dei casi le risposte dei colleghi bibliotecari è 20.000 libri 50.000 100.000 patrimonio delle biblioteche e ce lo stiamo dicendo da un sacco di tempo sono gli utenti le persone le relazioni che abbiamo costruito è su quello che noi costruiamo l'innovazione ed è su questo filone che abbiamo innestato questo straordinario progetto di cui vi parla ora Simona Buongiorno a tutti ringrazio Gianni per questa introduzione che ci ha dato un po' il quadro geografico storico in cui CSBNO si muove da 20 anni vi racconto io come è nato e come si sta sviluppando questo progetto europeo per farlo torno un po' all'anno in cui abbiamo concepito e abbiamo pensato di affrontare un'avventura che è quella della progettazione europea che non era così scontata noi siamo un territorio molto grande con città come Cinisello e San Giovanni che sono molto attive chiaramente molto avanzate anche rispetto alle competenze al loro interno ma una progettazione europea nata costruita e sviluppata in una biblioteca non l'abbiamo mai incontrata non la conosciamo quindi eravamo un po' pionieri rispetto a questa attività a questa ipotesi che cosa succede nel 2015 l'anno in cui presentiamo il progetto in che momento storico siamo qui abbiamo fatto un elenco di servizi di attività culturali che CSBNO aveva sviluppato nel tempo e ha proposto alla propria rete di biblioteche di attivare all'interno della propria biblioteca perché non dimentichiamo che CSBNO è l'azienda che gestisce i servizi di rete non gestisce biblioteche anche se nel corso degli anni abbiamo spostati appunto verso servizi alle biblioteche alla realizzazione e gestione di servizi direttamente agli utenti e ai cittadini e nel fare questo questo è un po' un elenco che non è probabilmente esaustivo ma che dà un po' l'idea anche della quantità di attività e di servizi che oggi sono presenti nelle nostre biblioteche quindi artoteca col prezzo delle opere abbiamo collocato pianoforte all'interno della biblioteca che possono essere usati sia per piccole performance ma anche dagli utenti che intendono giocare suonare il piano lo possono fare usando le cuffie perché si tratta di un pianoforte digitale ma possono farlo anche così facendo ascoltare la propria esibizione agli utenti della biblioteca e anche un po' lanciando questo messaggio il silenzio non è più così fondamentale la biblioteca sia un luogo di incontro di scambio di interazione fra persone non ha bisogno del silenzio sacrale che spesso noi pretendiamo nei nostri spazi abbiamo una fortissima offerta di formazione che si completa rispetto alla lingua con i viaggi studio per approfondire appunto lo studio delle lingue abbiamo un'offerta rispetto alle visite d'arte sia all'interno del nostro territorio sia all'esterno gestiamo un teatro all'interno di uno dei nostri comuni e un circuito teatrale e una serie di altre cose fra cui appunto ticketing rispetto a una serie di eventi culturali che avvengono all'interno del nostro territorio e soprattutto a Milano quindi allora dicevo nel 2015 avevamo appena lanciato una campagna di raccolta fondi che abbiamo chiamato Piuteca che ci ha fatto un po' ragionare ci ha fatto mettere insieme e visualizzare questa ricchezza e questa quanto l'offerta culturale che la biblioteca le nostre biblioteche potevano offrire ai propri cittadini fosse appunto ampia diversificata rispetto alla tipologia e appunto ricca però ci è venuto in mente un'altra cosa in questo momento l'offerta ricchissima le biblioteche avevano lavorato e i bibliotecari hanno lavorato tantissimo per i cittadini ma non hanno lavorato con i cittadini tutta questa attività è il frutto del pensiero dell'elaborazione dell'organizzazione di staff di persone di professionisti che lavorano all'interno delle biblioteche e che appunto hanno prodotto elaborato l'offerta senza un vero confronto con i cittadini quindi questo elemento ci ha fatto rendere immediatamente conto che potevamo come dire che dovevamo invece attivare il confronto l'interazione con gli utenti e con i cittadini se volevamo veramente dare risposte ad esigenze aspettative che provengono dal pubblico che non sono il frutto invece di nostre elaborazioni quindi cominciare ad essere il cambiamento che noi appunto volevamo vedere realizzato all'interno delle biblioteche nel fare questo ci ha aiutato lo sguardo il punto di vista di un nostro collega che lavora in una rete bibliotecaria della Sardegna e che ci ha lanciato questo monito per cambiare le biblioteche bisogna lavorare posso dire cambiare i bibliotecari in quanto il punto il punto di partenza come dire adesso non voglio generalizzare ma insomma un po' il punto di partenza del bibliotecario è io conosco i miei utenti io so che cosa vogliono io so quindi dare io ho in testa già le risposte e soprattutto in testa le domande quindi se ho in testa le domande sono in grado di elaborare le risposte e quindi appunto io conosco i miei utenti ancora una volta nonostante questa ricchezza e questa diversità dell'offerta la percezione della stessa è che sia il frutto di un processo top down quindi che non ci sia non ci sia stata condivisione nell'elaborazione della proposta ma che appunto sia il frutto non dico di un'imposizione ma di un processo che dal vertice arriva alla base abbiamo voluto verificare che effettivamente le cose stessero in questo modo e abbiamo quindi attivato tre focus group per capire per capire un po' il punto di vista dell'utenza e quello che è emerso da questi focus group è non soltanto che la percezione della biblioteca negli utenti rimaneva un po' ancorata ad una dimensione tradizionale quindi di luogo di studio di accesso all'informazione e alla conoscenza dove ci sono i libri che posso prendere in prestito ma ancora più come dire triste era che abbiamo il focus ha voluto come dire stimolare i partecipanti ad associare la biblioteca ad un colore a un genere musicale all'immagine di una persona ed è emerso che il colore associato alla biblioteca era il marrone che la musica che come dire evoca maggiormente l'ambiente della biblioteca è musica un po' noiosa un po' non so che cosa può intendessero con noiosa ma insomma non certo pop e che se è associata ad una persona all'immagine di una persona la biblioteca corrisponde ad un signore anziano un po' canuto un po' brontolone disponibile molto saggio ma insomma non come dire un po' come Gianni quindi la verità che noi abbiamo abbiamo dovuto assolutamente abbiamo fatto i conti è che la nostra consapevolezza io conosco i miei utenti non è fondata insomma gli utenti e le persone sono portatrici di bisogni aspettative e desideri che noi non sappiamo se non andiamo a chiederle quindi è stato quello il momento in cui abbiamo ci siamo messi a cercare una soluzione ci siamo messi a pensare a come fare ad integrare questa fortissima lacuna che noi assolutamente dovevamo affrontare è in questo momento che nasce l'idea la doppia idea intanto di utilizzare un metodo che nel frattempo abbiamo intercettato che è il metodo la metodologia design thinking for public libraries il cui manuale è disponibile gratuitamente online e di importarlo di testarlo quantomeno all'interno delle nostre realizzazioni e subito dopo però ci siamo posti il tema di come sostenere di come finanziare un progetto che prevedeva anni di lavoro tempo lavoro prevedeva la necessità assolutamente di risorse anche economiche per poter costruire un progetto e un percorso credibile l'Europa l'Europa c'è sembrata l'istituzione come credo ovunque in Lombardia sono attivissime molte istituzioni che finanziano progetti di tipo culturale ma l'Europa ci è sembrato l'interlocutore più anche corretto se vogliamo con cui affrontare questo percorso e quindi ci siamo un po' anche non nascondo con un po' di timore perché come dicevo all'inizio la nostra esperienza rispetto alla processazione è ampia noi lavoriamo moltissimo per progetti e per progetti che presentiamo in bandi di finanziamento e che per nostra fortuna e bravura vinciamo ma affrontare l'Europa è un po' uno scoglio che in Italia forse dobbiamo imparare a non considerare uno scoglio ma appunto un'opportunità ci siamo quindi come dire fatti affiancare devo dire dalle professionalità come giuste nel nostro caso abbiamo collaborato con una ex dirigente di regione Lombardia che poi è entrata anche nella regione che poi è entrata nel partenariato del nostro progetto ci siamo un po' come dire fatti accompagnare in questo percorso di progettazione e di presentazione della 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 candidatura in ogni caso affrontare un progetto europeo se posso dirlo è stata un'esperienza intanto interessantissima non così diversa rispetto alla progettazione nelle istituzioni italiane e una delle cose che abbiamo che io ho riscontrato con maggiore sorpresa è che quando abbiamo vinto il progetto nel 2016 e abbiamo attivato il confronto con l'agenzia che gestisce il programma Europa Creativa che si chiama in italiano EACEA a proposito di acronimi un po' difficili abbiamo scoperto che le biblioteche come istituzioni culturali all'interno del programma che finanzia le attività culturali non sono moltissimo rappresentate in particolare quell'anno eravamo l'unica istituzione bibliotecaria che aveva non soltanto vinto ma anche presentato un progetto nell'ambito del bando che finanzia progetti di cooperazione sia su piccola che su larga scala quindi due parole sul programma si tratta appunto di Europa Creativa che prevede tre sottoprogrammi noi ci siamo candidati all'interno del sottoprogramma Cultura che prevede fra gli altri bandi di sostegno a progetti di cooperazione su piccola e su larga scala noi abbiamo scelto come prima esperienza di candidarci sulla linea progetti di piccola scala che ha come caratteristiche di concedere un contributo di dimensioni gestibili fino a 200.000 euro che coprono il 60% dei costi di progetto e che prevedono un partenariato che sia costituito da almeno altri tre paesi oltre al paese del soggetto leader nel nostro caso il soggetto leader è stato è CSBNO partnership italiane sono la partnership italiana è completata dalla presenza di Regione Lombardia e dalla presenza di due università milanesi Politecnico di Milano con il dipartimento di Service Design e Università Bicocca di Milano Bicocca con il dipartimento di Scienze Umane Qual è l'obiettivo principale del progetto New Lib New Challenges for Public Libraries è importare la metodologia del Design Thinking for Public Libraries facendolo formando i gruppi bibliotecari delle biblioteche partner e testando sul campo la metodologia quindi accompagnando i gruppi di bibliotecari che si sono attivati all'interno del progetto accompagnandoli nella realizzazione di tutto il percorso previsto dal metodo fino al test alla verifica del prototipo nel fare nel procedere in questa direzione fondamentale è stata la presenza e l'accompagnamento all'interno della partnership che la città di Orso in particolare la biblioteca DocOne ha attivato nel senso che Orus è partner di progetto il loro ruolo è quello di svolgere un'attività di mentoring rispetto a tutti i gruppi di bibliotecari che si sono attivati e si è rivelata un'attività veramente a presenza fondamentale non soltanto per la competenza e la professionalità messa in campo ma anche perché ci ha dato modo durante più visite effettuate a DocOne di vedere di capire sul campo design thinking è una metodologia che si impara applicandola che non ha molta teoria e che ha bisogno di essere appunto testata continuamente per poi poterla maneggiare e coglierne gli aspetti e tutti gli elementi di assoluta innovatività e qualità che porta la presenza nel nostro gruppo di progetto di Orus e di DocOne che insieme alla rete bibliotecaria di Chicago e guidati da IDO hanno realizzato hanno scritto e hanno messo a punto il manuale per noi per tutto il gruppo dei partner è stato fondamentale completano la partnership quindi oltre a CSBNO che ha lavorato con tre delle sue 33 biblioteche una biblioteca la biblioteca pubblica della città di Braga in Portogallo e la biblioteca pubblica della città di Ploieste in Romania che vede la presenza non soltanto della biblioteca pubblica di questa città ma anche di Progress Foundation che è una realtà rumena sorta anche essa grazie al contributo di Bill & Melinda Gates Foundation che fornisce servizi alle 1700-1800 biblioteche rumene anche in questo caso abbiamo avuto la fortuna anche di incontrare professionisti professionalità di altissimo livello che ci hanno accompagnato nel nostro percorso in effetti il design thinking si è rispetto alle sfide che abbiamo davanti si è rivelato uno strumento fondamentale per affrontarle queste sfide e non soltanto per affrontarle ma per affrontarle in modo corretto e vincerle e perché perché questo perché il metodo lavora con la principale risorsa che c'è nelle biblioteche i bibliotecari e gli utenti quindi mette al centro le persone e conferisce loro un ruolo fondamentale nella nello sviluppare nella creatività innanzitutto e poi nello sviluppare soluzioni in Italia abbiamo dovuto affrontare da subito un non dico un problema però un assicuramento una situazione che non poteva essere ignorata quando parliamo di design in Italia pensiamo a un oggetto un bello oggetto disegnato e progettato da un archistaro da un designer famoso che poi si traduce in qualcosa che noi vogliamo assolutamente acquisire in questo caso non parliamo di progettazione di oggetti di prodotti parliamo di progettazione di servizi ma non è stato banale per noi affrontare questo tema tanto che abbiamo pensato per andare incontro a questa situazione e risolverla di inserire all'interno e per aiutare i bibliotecari ad abbracciare ad acquisire lo sguardo del designer abbiamo pensato di inserire all'interno dei gruppi di progettazione che il manuale prevede siano costituiti da bibliotecari e dagli utenti abbiamo pensato di inserire la figura di un giovane designer quindi per questo è stata fondamentale la collaborazione con il dipartimento di service design di Politecnico Milano che ha fatto innanzitutto ha lanciato questa call internazionale per selezionare designer studenti sia appunto presenti nell'università milanese ma anche nelle città partner che volessero fare l'esperienza di accompagnare un gruppo di design thinking nell'affrontare la sfida e poi nell'arrivare alla prototipazione della soluzione individuata l'avere inserito all'interno dei nostri gruppi di progettazione la figura di un designer non ha avuto solo un valore interessante per i bibliotecari ma anche per i designer stessi nel senso che i giovani studenti si sono trovati ad applicare a lavorare sul campo con le persone quindi con i bibliotecari e con gli utenti e non soltanto a studiare sui libri a provare all'interno delle aule che cosa significa progettare un servizio hanno potuto da subito testare sul campo che cosa significa applicare il design dei servizi questa è l'immagine di uno dei gruppi italiani che si sono attivati all'interno di CSBNO sono stati attivati un gruppo di progettazione sulla nuova biblioteca di Arese che ha lavorato sul tema della presenza degli studenti universitari all'interno della biblioteca e di come rendere servizio agli studenti e magari attivarli nella restituzione alla biblioteca perché sappiamo tutti non so da voi come è la situazione da noi gli studenti invadono la biblioteca ne invadono gli spazi oltre le sale lettura destinate allo studio e soprattutto quando è periodo di esami si collocano ovunque alla ricerca di uno spazio dove studiare questo può essere un problema forse può diventare un'opportunità il gruppo di Arese sta lavorando su questo tema il gruppo di Pero invece anche lì è una nuova biblioteca molto piccola in una comunità piccola molto attiva molto dinamica sta lavorando su un target terza età quindi utenti anziani sta lavorando con loro ha effettuato una serie di interviste sul territorio andando a cercare gli anziani dove si in i loro luoghi di aggregazione cercando di capire insieme a loro che cosa portare in biblioteca per far sì che anche la biblioteca che la biblioteca diventi un luogo di aggregazione anche per questo target e l'ultimo gruppo il gruppo di Cinisello all'interno di questa grandissima e bellissima biblioteca che è il Centro Culturale Il Pertini sta lavorando nello specifico sul tema dell'emeroteca quindi come trasformare il servizio periodici di riviste in uno spazio in un'attività che appunto riesca sempre di più a coinvolgere l'utenza della biblioteca di incontrare le necessità e a sviluppare appunto nuove forme di servizio che cosa abbiamo riscontrato da subito grazie all'applicazione del metodo beh quello che abbiamo chiamato l'empowerment dei bibliotecari nel senso che come dire lavorare con le persone vedere che cosa che tipo di energia si sviluppa e che cosa la creatività può come dire quanto la creatività sia il vero strumento per risolvere i problemi sta come dire accompagnando il bibliotecario ad acquisire un nuovo sguardo rispetto alla propria funzione al proprio ruolo all'interno all'interno della biblioteca ma aiuta anche i giovani designer ad evitare gli epic fails nel senso che progettare in teoria è come dire un'attività progettare quando si lavora con le persone quando si ha a che fare con le situazioni reali è un'altra come dire può non avere ha dinamiche diverse e ha bisogno di uno sguardo di uno sguardo diverso quindi entrambe le figure professionali all'interno dei gruppi di progettazione stanno imparando come dire uno dall'altra e insieme dagli utenti e dei cittadini che sono coinvolti insomma la nostra esperienza si sta rivelando veramente molto molto positiva nel senso che si può fare il cambiamento si può realizzare si può importare all'interno di spazi che sembrano un po' ingessati sembrano un po' destinati a fare un po' sempre le stesse cose non è così quello che noi stiamo sperimentando è che effettivamente possiamo portare dei cambiamenti molto significativi all'interno delle nostre biblioteche e per questo non ci siamo fermati nel senso che nella prossima scadenza che è prevista per il prossimo mese di gennaio sempre di Europa creativa sotto programma cultura progetti di cooperazione stiamo elaborando una nuova proposta di progetto questa volta l'ambizione è di presentarci sulla linea progetti di cooperazione su larga scala quindi si ampliano le risorse si amplia il parternariato che passa da tre paesi rappresentati a sette e si ampliano le attività che vogliamo sviluppare il metodo che applichiamo oramai il metodo che vogliamo ancora una volta applicare è design thinking lavorare ancora con i cittadini questa volta il tema del nuovo progetto sono le biblioteche di comunità piccole quindi come la cittadinanza può attivando percorsi di cittadinanza attiva può entrare nella gestione di spazi culturali di biblioteche di comunità di piccole dimensioni che oggi proprio per la mancanza di risorse rischiano di essere di annullarsi come significato gli orari si riducono sempre di più e quindi come dire pensare di continuare a far vivere questi spazi solo attraverso risorse professionali mi sembra che è un'idea che dobbiamo abbandonare l'attivazione dei cittadini che si riappropriano di uno spazio pubblico è un po' il tema della nuova della nuova progettualità che stiamo realizzando che stiamo sviluppando grazie abbiamo ancora quasi un'ora e quindi c'è lo spazio per un'interazione anche con coloro che finora hanno ascoltato anche per non venire meno ai suggerimenti che ci sono venuti dai relatori sia per chiedere degli approfondimenti sia per esprimere opinioni diverse o prospettare visioni complementari prego chiedo solo magari di dire il vostro nome sì certo buongiorno a tutti Laura Ventura Biblioteca Civica Musicale Andrea della Corte città di Torino ho annotato degli appunti mentre sentivo gli interventi e di solito faccio così cioè a me vengono subito in mente delle domande quindi le faccio a voi poi magari cerchiamo una risposta anche insieme ma sono risposte che secondo me sono difficili da trovare allora attrazione turistica è una cosa della quale si parla molto ormai in tutte le città nella nostra in particolare e mi chiedevo una cosa in realtà ce lo chiedevamo un po' ad alta voce qui nella fila biblioteca praticamente diventa contenitore e l'attrazione turistica può passare non più da quello che c'è nel contenitore non solo poi soprattutto da quello che c'è nel contenitore ma anche dal contenitore stesso mi vengono in mente le due biblioteche che abbiamo visto rappresentate oggi sono sicuramente dei sono dei bellissimi contenitori nuovi attrattivi uso un termine molto molto italiano molto ruffiani ed è chiaro che questo è l'attrattiva principale turistica alla fine questo ha poco a che fare poi con i servizi che ci sono in biblioteca che si offrono in biblioteca quindi attenzione perché l'attrazione turistica molto spesso non passa dal servizio che si offre in biblioteca ma dal contenitore stesso quindi questa è una domanda ma è anche una riflessione d'alta voce poi mi chiedevo abbiamo parlato della della fruizione di questi luoghi cioè ho sentito sia accesso libero e gratuito in un caso l'accesso è libero e gratuito sempre e sono gratuiti anche i servizi che si offrono in biblioteca oppure tutti i soggetti che vengono ospitati per offrire questi nuovi servizi effettivamente poi hanno un ritorno anche dal punto di vista economico io capisco che sono concetti difficili c'è il discorso del commerciale non commerciale però mi chiedevo se effettivamente poi queste collaborazioni sortiscano anche questo tipo di discorso e quindi un cambiamento anche di paradigma importante un grosso ed è stato ribadito e sono contenta che quest'ultimo intervento sia stato effettivamente chiaro su questo un grosso limite per chi in questo momento lavora nelle biblioteche è quello della di chi ci lavora abbiamo parlato di che età hanno i bibliotecari in questo momento gli aiuti bibliotecari tutti coloro che per un motivo o per l'altro stanno in biblioteca e offrono il loro stanno lavorando in una biblioteca questo è un limite enorme è un limite che in Italia ci riguarda non soltanto chiaramente per i servizi bibliotecari ma per tante altre cose in me cioè siamo una popolazione che sta invecchiando e siamo dei lavoratori che molto spesso sono non proprio giovanissimi quindi anche soltanto il discorso progettuale che si vuole mettere in movimento e che giustamente insomma si tende a mettere in movimento si scontra rischia di scontrarsi poi effettivamente con un 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 blocco io lo chiamo blocco ma non è così perché siamo in tanti siamo molto diversi però comunque con una popolazione lavorativa delle biblioteche che è piuttosto agé e sappiamo bene che i processi di cambiamento difficilmente passano comunque riescono ad essere interpretati attivamente da delle persone che ormai volenti o nolenti sono stanche tra virgolette stanche per mille ragioni diverse grazie ci sono tanti spunti ce ne sarebbero stati molti altri raccogliamo farei una domanda molto banale nel senso di conoscere un po' meglio gli orari di apertura dei servizi e anche si è parlato di numeri e di riduzioni di personale nel caso di Birmingham è uno dei nodi che noi affrontiamo tutti i giorni quindi anche del numero di persone che ci lavorano e magari anche andare un pochino più a fondo sulla loro preparazione e professionalità insomma grazie Sì un'informazione per i nostri due relatori stranieri sono Cecilia Cognini Biblioteche Civiche Torinesi allora qualche informazione in più sul rapporto tra la biblioteca centrale e le biblioteche quindi le biblioteche territoriali se ci sono delle connessioni anche con la rete bibliotecaria dell'area metropolitana e con le altre tipologie di biblioteca in città convintissimi anche noi che la biblioteca debba stringere rapporti differenti con i cittadini e con l'utenza e quindi ripensarsi anche nei processi di organizzazione dei servizi può essere utile per il quadro torinese avere un po' un'idea di qual è lo standard però delle vostre collezioni quindi quanti libri e quanti documenti cartacei digitali avete nelle vostre biblioteche qual è l'alimentazione quindi quanto viene accresciuto il patrimonio annualmente i cittadini come hanno partecipato nel senso come sono stati coinvolti attraverso gruppi già formati sul territorio oppure gruppi spontanei cittadini che già frequentavano la biblioteca o che ne so i comitati di quartiere queste cose soprattutto nel caso dei ragazzi mi interesserebbe l'ultima per la prima parte così cominciamo con le risposte sono Massimo Coincagli direttore del progetto biblioracing di formazione accompagnamento al fundraising delle biblioteche volevo sapere dagli interlocutori se nel processo di riprogettazione quindi sia nella consultazione sia nella parte più creativa se in qualche modo è stato oggetto di confronto con gli stakeholders gli interlocutori ma soprattutto con il popolo delle biblioteche gli utenti delle biblioteche il tema del fundraising o meglio della sostenibilità sia nel tentativo di capire l'orientamento a contribuire al sostegno delle biblioteche sia nella individuazione poi delle forme che possono essere adottate per praticare del fundraising guardando in principal modo agli individui ho in mente ma senza scaltare le aziende più che nel ruolo di sponsor nel ruolo di partner di comunità ecco grazie a quale rispondere per prima beh abbiamo un bel po' di domande magari parto dal fondo ecco dall'ultima sul fundraising sicuramente è emerso questo tema durante la fase consultiva e in effetti noi volevamo appunto progettarla ma volevamo anche che fosse sostenibile e quindi si trattava di attrare degli sponsor si trattava di affrontare la questione dei diritti di denominazione non c'era diciamo per quanto riguarda le aziende grandissimo interesse da parte delle grandi aziende abbiamo avuto più successo nel lavorare con degli enti di finanziamento che distribuiscono denaro ad esempio a partire dalla lotteria abbiamo lavorato poi con l'heritage learning fund ad esempio attraverso l'organizzazione di spettacoli in biblioteca abbiamo lavorato con la British Library la British Library è stata veramente fantastica ad esempio durante le celebrazioni del 2016 riguardo a Shakespeare quindi è stato celebrato il quarto centenario della morte di Shakespeare insomma sono stati veramente fantastici abbiamo collaborato abbiamo organizzato delle mostre della British Library e tutto ciò appunto è nato dalla partnership che abbiamo avuto con loro quindi ecco sicuramente noi abbiamo avuto molto beneficio per quanto riguarda il fundraising dalla lotteria e poi dagli sponsor poco successo con le aziende monetizzando per quanto riguarda la generazione di fondi da diciamo dalla digitalizzazione di oggetti delle collezioni abbiamo avuto molto poco è una cosa diciamo molto seduttiva ma poi diventa molto difficile realizzarla sì posso anch'io aggiungere qualcosa le partnership sono specifiche e sono in natura questo significa veramente che molte delle attività sono gratuite non c'è un come dire uno scambio di denaro anche per noi è stato molto difficile ottenere delle sponsorizzazioni non ci si può basare almeno per noi non abbiamo potuto basarci sulle sponsorizzazioni ci siamo invece basati su delle collaborazioni e al di lì è arrivata la grande abbondanza di attività venendo alle altre domande l'attrattività turistica ma non è questo il punto il punto sono i cittadini perché i turisti sanno sempre una frazione certo se arrivano benissimo ma non sono il nostro target principale e poi l'età come biblioteca pubblica noi eravamo innovativi molto prima di costruire la biblioteca avevamo una grande partecipazione di ragazzi e di ragazze un'età media anche elevata ma c'era cioè non è una questione di età alla fine è questione di atteggiamento quindi non focalizzatevi sull'età focalizzatevi sull'atteggiamento delle persone non è una questione di età io credo che il futuro che attende le biblioteche sia un futuro molto rosio da quel punto di vista sì di nuovo tornando sull'aspetto turistico certo non è l'obiettivo principale della biblioteca anche se per noi è stato importante descrivere l'edificio come un container un contenitore ma io lo chiamerei attivatore piuttosto l'idea è che il turista arriva dia un'occhiata e che poi naturalmente se ne vada comunque è una funzione utile quando arrivano i turisti loro vogliono comunque partecipare anche se temporaneamente vogliono usare internet o magari vogliono stampare i loro biglietti di viaggio vanno naturalmente a consumare al caffè al bar vanno ad acquistare al negozio e questo comunque aumenta il profilo della biblioteca anche nelle diverse parti del paese del Regno Unito in questo caso quindi io penso che l'elemento turistico della biblioteca di Birmingham giochi un ruolo importante e sia un elemento interessante vi faccio un esempio alcuni anni fa adesso sono passati anni non so se conosciate il gioco del cricket in Italia ma c'è un bel campo da cricket a Birmingham c'era una partita con l'Australia naturalmente pioveva e c'erano 7000 australiani che cosa hanno fatto questi australiani sono venuti in biblioteca sono venuti in centro città e quindi anche questa è una grande opportunità di visibilità per parlare delle collezioni degli orari e dei tagli dunque anche noi abbiamo avuto dei tagli e uno degli aspetti che riguarda il nuovo edificio è che è possibile aprire l'edificio con sole cinque persone come membri dello staff come siamo riusciti ad ottenere una cosa di questo genere perché ci sono sale come queste in cui le persone possono far funzionare tutto da soli possono prendere a presto non c'è bisogno di tecnici si infila una spina è molto facile si preleva dal cassetto si mettono le cuffie e tutto funziona e questo per darvi un esempio quindi è molto importante fare in modo che ci siano molti servizi self service con delle spiegazioni fornite automaticamente pensate che quindi nella nostra biblioteca appunto le persone possono prendere a prestito e restituire i libri senza l'intervento di un operatore quindi noi siamo aperti dalle 8 del mattino alle 10 di sera durante la settimana e fino alle 4 il sabato e la domenica e siamo in grado di gestire la biblioteca con pochissimo personale le collezioni abbiamo tra i 70.000 e i 80.000 diciamo così oggetti che comprendono anche quelli digitali ma quelli fisici sono una collezione come dire flottante fra la biblioteca principale e le altre 18 c'è un robot di smistamento per cui durante la notte c'è un camion che porta tutti i libri che sono stati inviati alle biblioteche di quartiere e il sistema sa esattamente qual è il profilo di ciascuna biblioteca il sistema conosce ogni scaffale quindi diciamo che in una biblioteca di quartiere non ci siano più libri di giardinaggio il sistema comincia a selezionare i libri di giardinaggio da quelli che vengono restituiti e li invia alla biblioteca che ne ha bisogno questo faceva parte del lavoro del bibliotecario che andava a cercare sullo scaffale adesso c'è un sistema che lo fa automaticamente i bibliotecari sanno che non so in questo quartiere ci sono tanti libri di un certo tipo quindi stabilisce quello che chiamiamo il profile e poi è la tecnologia che fa tutto e il resto si può fare molto appunto noi le chiamiamo biblioteche di comunità piuttosto che di quartiere a parte la library of Birmingham ne abbiamo 38 e che ci crediate o meno fino a molto di recente queste biblioteche venivano gestite in maniera completamente separata dalla library of Birmingham una situazione credo di caratteristico unico nel Regno Unito ma grazie al cielo adesso siamo di nuovo tutti insieme abbiamo certo sempre lavorato insieme ad esempio condividendo la stessa rete informatica gli stessi servizi informatici lo stesso sistema diciamo di pagamenti tutto è centralizzato ripeto quindi su questo abbiamo sempre collaborato adesso collaboriamo anche sempre più all'organizzazione di eventi per esempio la mostra di Shakespeare ce ne sarà un'altra anzi ce n'è una in corso che riguarda l'impatto della cultura del sud-est asiatico sulla città di Birmingham e sul Regno Unito in generale quindi piuttosto che fare tutto nel centro della città facciamo anche delle cose nella biblioteca perché tra l'altro e non solo in questa ma anche nelle biblioteche di comunità che sono molto più vicine alle persone ai cittadini come abbiamo coinvolto il pubblico dunque il toolkit prevede diversi strumenti di coinvolgimento degli users e dei cittadini noi all'interno dei gruppi di New Lib del progetto europeo così come con gli altri gruppi di biblioteche che abbiamo coinvolto perché a seguito di questo progetto stiamo lavorando con altre biblioteche italiane un gruppo di biblioteche della provincia di Bergamo un gruppo di biblioteche di Milano della città di Milano la biblioteca centrale nazionale di Roma abbiamo scelto di utilizzare l'intervista come metodo di coinvolgimento che significa o come dire chiedere alle persone di presentarsi in biblioteca per essere intervistate o ancora meglio andare dove le persone si riuniscono nel caso degli anziani della comunità di Pero abbiamo detto abbiamo i nostri bibliotecari si sono sguinzagliati all'interno del territorio sono andati nei bar nei circoli nei centri dove gli anziani si incontrano e hanno chiacchierato con loro li hanno intervistati appunto rispetto alle loro esigenze e ai loro desideri in alcuni casi addirittura le interviste sono state realizzate a casa a casa delle persone perché come dire il luogo principale dove una persona sente il suo agio non è condizionata minimamente rispetto alle risposte che può dare non sente di dover rispondere come l'intervistatore gli chiede di rispondere la tecnica dell'intervista viene come dire come competenza viene trasferita al bibliotecario o comunque al gruppo che la realizza come viene trasferita la modalità di come dire di raccontare che cosa ci viene raccontato nel senso che il linguaggio di design thinking è molto visuale prevede di utilizzare le immagini moltissimo dal disegno ai video alle foto piuttosto che grandi relazioni perché è da quell'immediatezza lì che ricaviamo le informazioni più interessanti che poi ci servono per elaborare le proposte le stesse persone che sono state coinvolte appunto nel brainstorming rispetto alle esigenze e alle aspettative vengono poi coinvolte nella fase di verifica del prototipo nel senso che il processo ha un momento conclusivo nella realizzazione del prototipo del servizio che si vuole rilasciare ma lo stesso prima di essere messo in produzione viene testato quindi viene risottoposto nuovamente all'utenza potenziale o comunque ai cittadini che sono interessati a quel tipo di offerta per capire se risponde effettivamente alla domanda e se non risponde alla domanda il processo ricomincia con il fallimento è come dire non solo previsto ma addirittura incentivato in questo processo perché dall'errore si impara moltissimo grazie c'è ancora il tempo per qualche intervento chiedo sintetici possibilmente è stato battuto sul tempo buongiorno Allegretti della biblioteca civica centrale allora la domanda è un po' rispetto a quello che è stato prospettato come tipologia di utenza che si è vista nei video nelle slide oppure insomma in quanto si è quanto è stato dichiarato io volevo solo capire una cosa il tipo di utenza che si è vista e sentita è un tipo di utenza insomma di persone interessate a interagire a chiedere comunque prestiti o questo tipo di persone mi domandavo questo se c'è stato anche un altro tipo di utenza da voi e parlo comunque di persone che magari non hanno altri luoghi dove andare e quindi cercano chiaramente rifugio presso la biblioteca dove comunque possono escaldarsi eccetera eccetera o se è stata una cosa che visto il tipo comunque di offerta è venuta da sé quasi ad escludere questo tipo di persone o a trovare per loro dei luoghi diversi che non siano quelli della biblioteca perché nel mio nella mia mente quello che è sempre stato la biblioteca era un luogo di cultura ho trovato che fosse in questo momento non solo quello ma che sia anche un luogo proprio di di rifugio qualche volta e quindi questa è un po' la domanda che vorrei porre è una domanda molto importante in effetti io avrei potuto mostrarvi altre immagini avrei potuto mostrarvi quante persone vengono alla biblioteca magari solo per sì per leggere per lavorare al proprio computer la maggioranza delle persone che si vedono in biblioteca sono sedute di solito stanno utilizzando il computer o stanno leggendo o magari sono solo sedute ed è la maggioranza una frazione di quella maggioranza probabilmente è fatta da homeless da senza tetto persone che cercano un posto dove sedersi e tra l'altro nella misura in cui non disturbano gli altri c'è posto per tutti abbiamo avuto solo pochi casi in pochi casi abbiamo avuto problemi perché le sale sono molto ampie quindi c'è una specie di controllo sociale che lo spazio opera e la gente si adatta a questo spazio c'è stato un caso in cui un senza tetto ha cominciato a costruirsi proprio un proprio campo un accampamento diciamo con tutti i tappeti eccetera ovviamente questo fra gli scaffali ovviamente non abbiamo potuto permettere questo ma a parte in questo caso c'è posto per tutto devo riportare il discorso una visione un po' politica e un po' diciamo meno 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 tecnica non so se ci si è resi conto ma è chiaro che differenza c'è tra people of the power e populismo qui siamo di fronte a una svolta epocale dove realmente l'empowerment di una comunità riguarda ciascuno e tutti tutti nella biblioteca hanno nella visione nella visione che si deve avere per progettare una biblioteca hanno una funzione di potenziare il progetto e di ricevere potenza da questo progetto quindi i politici dovrebbero capire che l'investimento in questo progetto è un investimento di una comunità per essere protagonista lei stessa la comunità e i singoli individui cittadini di un viaggio nel futuro così come le navi dei vichinghi partivano ed era la comunità a costruirle è una comunità che si fa protagonista del proprio cambiamento e riceve da gli viene chiesto gli viene dato questo potere e riceve potere i bambini ricevono potere gli anziani continuano ad avere potere e non ce l'hanno attraverso un touch su uno strumento che magari o non sono ancora in grado o non sono più in grado di usare sono in grado di riceverlo in un ambiente dove sono loro i soggetti attivi questa è una visione che deve essere partire dal basso per cui deve essere condivisa e quindi ci vuole una grande umiltà e una grande capacità di dare il potere della condivisione nelle scelte e nel dibattito ma deve essere anche guidata con la consapevolezza che i servizi in un paese civile vengono erogati perché una comunità non affronti solo emergenze ma vada verso un futuro vada verso un miglioramento uno sviluppo di cui le tasse che vengono pagate non servono solo a mettere le toppe quando un paese crolla sotto i terremoti ma anche per ricostruire e costruire una visione di che cosa vogliamo dare ai nostri figli e di cosa vogliamo continuare a dare a noi stessi e ai nostri genitori se li abbiamo ancora o quando saremo noi anziani e ancora saremo in grado di voler partecipare ed essere soggetti a questo serve la biblioteca è un'arca che va verso un futuro e questa arca deve essere guidata da una visione politica scusa no era acceso dico subito una cosa che mi ha fatto venire in mente quest'ultimo intervento perché sono completamente d'accordo su questa visione però dobbiamo avere anche un'altra consapevolezza io oggi non li ho citati in altre situazioni cito delle indagini che vengono fatte da Abacus su cittadini e amministratori e a fronte della crisi e a fronte della domanda ai cittadini quali servizi tagliereste della vostra comunità i cittadini al primo posto ci mettono biblioteche e attività culturali diciamo che le biblioteche vengono tirate giù dalle attività culturali siamo bibliotecari magari può anche funzionare ma forse può essere il contrario e gli amministratori i sindaci interrogati con la stessa domanda hanno messo questi tagli al terzo posto devo dire però dobbiamo avere questa consapevolezza perché siamo un segmento di lavoro in cui le biblioteche chiudono al venerdì mattina non aprono il venerdì pomeriggio il sabato e la domenica perché i bibliotecari fanno valere i propri diritti diciamolo con chiarezza i propri diritti di lavoratori e non vanno a lavorare il sabato e la domenica e quando danno degli incarichi alle cooperative ci mettono i giovani con la logica del nonnismo io lo dico con un po' di enfasi scusate perché noi facciamo servizi come come azienda speciale ai comuni e alle biblioteche del nostro territorio mandiamo il nostro personale nelle biblioteche con la logica del nonnismo le persone che mandiamo peraltro molto competenti perché quelle che selezioniamo arrivano da percorsi di studi strabilianti molto competenti le mettono al banco alla sera al sabato alla domenica allora prendiamo consapevolezza di questo fatto e cominciamo a cambiare anche il nostro atteggiamento rispetto ai servizi avremo sicuramente un credito diverso rispetto agli amministratori quella visione lì è completamente condivisibile perché è quella su cui stiamo lavorando però dobbiamo anche sapere da dove partiamo grazie anche a Gianni Stefanini voglio dare la parola all'assessore le ho forse una precisazione le indagini tipo quelle di Abacus mi sembra che però non distinguono tra i diversi servizi culturali per cui l'effetto che le biblioteche siano tra i servizi che i cittadini taglierebbero per primi viene da quello nella nostra esperienza concreta qui a Torino c'è una netta distinzione se si parla di servizi di attività culturali detto in altre parole teatro cinema e biblioteche e abbiamo visto e continuiamo a vedere mobilitazioni perché le biblioteche funzionino e funzionino meglio ma chiuso lì è stata veramente una una mattinata interessante e importante non è un caso che nell'organizzare questa questa mattina abbiamo scelto queste esperienze esperienze inglese esperienze di Arus danese e l'esperienza lombarda non è un caso perché si riallaccia una visione si riallaccia all'idea che la biblioteca non deve partire dal libro deve partire dalle persone ripensare la biblioteca ce l'hanno raccontato bene ripensarla vuol dire partire dalle persone e per farlo esistono delle metodologie esiste una idea che parte dai bisogni delle persone questo è il design thinking per questo abbiamo voluto parlare di questo in questa occasione perché c'è bisogno di riprogettare c'è bisogno di cambiare come dicevano il modo di fare le cose e bisogna cambiare il mindset come diceva il dottor Hopl come si pronuncia non faccio difficoltà ci sono alcune alcuni elementi importanti che sono venuti fuori e che credo ci saranno utili per la per la progettazione o la non progettazione della nostra futura biblioteca noi abbiamo bisogno di flessibilità noi abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di spazi predefiniti questi secondo me in una progettazione corretta che pensa al design thinking devono essere progettati in relazione ai bisogni che emergono noi abbiamo un sistema bibliotecario molto strutturato secondo me se non pensiamo se pensiamo prima alle persone e anche al futuro ma un futuro che è da qui ai prossimi 15 anni non sapremo se ci saranno ancora i libri se saranno di più se saranno di meno se sarà tutto digitale quindi dobbiamo metterci in un'ottica che pone al centro la conoscenza pone al centro la relazione pone al centro la nostra capacità come operatori culturali io non parlo neanche di bibliotecari come mediatori culturali che ha una sua specifica professionalità nell'essere bibliotecario di essere mediatori di essere facilitatori nel rapporto con le persone perché ogni persona è diversa esprime delle esigenze diverse mi ha molto colpito il dress code mi ha colpito perché spesso la divisa viene identificata come uno strumento perché tutti dobbiamo essere più uniformi è quasi un problema di immagine oppure di riconoscibile di immagine e di qualificazione estetica spesso viene interpretato in questo modo nella biblioteca il bisogno che siano riconoscibili coloro che ti accompagnano nella vita della biblioteca parte dalla necessità di riconoscerli di sapere che esistono delle persone a tua disposizione e questo cambia completamente anche il modo di pensare a un dress code che sia utile per orientarsi in un mondo culturale che non è fatto solo di libri in prestito noi abbiamo bisogno attraverso la riprogettazione della nostra futura biblioteca civica questi esempi sono fondamentali per noi ed è fondamentale anche quello che diceva il nostro POZ ovvero il fatto che non c'è solo la biblioteca centrale ma la biblioteca centrale è il centro di un sistema che si deve rivoluzionare nel suo modo di autoprogettarsi e di rimettersi in discussione perché quello che ci propongono che ci propone la biblioteca del futuro è di ripensare al nostro ruolo di ripensare alla nostra formazione di ripensare i nostri servizi in funzione dei bisogni dei cittadini è chiaro che non è un percorso che è strutturato ci sono delle tecniche ci sono dei modi come ci ha raccontato per capire e per analizzare e costruire i servizi ma dobbiamo faccio un esempio ho discusso con Paolo Messina le nostre biblioteche sono tutte a scaffale aperto lo scaffale aperto implica un irrigidimento dello spazio della biblioteca ma se la biblioteca dai cittadini deve come l'hanno espressa nelle altre occasioni un posto dove stare allora forse possiamo mettere in discussione il fatto che sia tutto a scaffale aperto possiamo non possiamo dobbiamo discuterlo in questo modo liberare lo spazio per renderlo flessibile non vuol dire togliere i libri e non occuparsene più vuol dire modificare l'organizzazione per esempio e lo dicevano tutti e tre cioè il fatto che la biblioteca sia uno spazio dove sia bello stare dove si stia insieme alle altre persone dove non c'è necessariamente sempre silenzio ecco anche questo mi ha colpito noi abbiamo una visione un po' fissa di biblioteca invece come hanno fatto loro la biblioteca per noi è una sorta di collante del territorio che riassume dentro di sé anche le proposte culturali del territorio circostante dei cittadini per farlo bisogna ripensarci dobbiamo ripensarci tutti insieme con una metodologia uno strumento fondamentale a mio avviso è già il pensiero e la progettazione preliminare della futura nostra biblioteca civica centrale perché da lì secondo me può nascere un ripensamento del ruolo che ciascun polo della nostra città ha anche in relazione col sistema bibliotecario metropolitano con cui stiamo dialogando con il sistema con le biblioteche universitarie insomma non si può ragionare da soli come dicevano loro noi dobbiamo ragionare in termini più ampi perché le biblioteche solo insieme riescono a sviluppare servizi più utili più efficienti una biblioteca universitaria uno scopo una biblioteca di civica lettura un altro ma qui si parla ancora di andare oltre e come amministrazione ci stiamo mettendo in discussione per raggiungere quell'obiettivo di visione politica di biblioteca come luogo di incontro di conoscenza di gioco di divertimento anche per tutti quindi ci sono dei metodi cercheremo di andare a fondo interessante lo strumento del progetto europeo e quindi siamo ringrazio davvero tantissimo perché gli spunti sono stati tanti e l'indicazione che ci arriva è chiara flessibilità conoscenza formazione e per riuscire ad affrontare il futuro grazie a tutti e per tutti che si sono iscritti grazie a tutti grazie a tutti